Il ministro della giustizia Florin Iordache annuncia l'invio in Parlamento del decreto governativo anticorruzione, ma in Romania ormai la protesta chiede solo le dimissioni del governo e i manifestanti non lasciano la piazza. L'esecutivo non ha alcuna ragione di dimettersi, dice il leader del Partito Socialdemocratico, ma il decreto di urgenza, ora abrogato, avrebbe permesso a una serie di politici di sfuggire alla giustizia introducendo una sorta di franchigia di 44 mila euro sotto la quale non sarebbe scattato il processo per corruzione. Ci sono molti tentativi in molti paesi di escludere i funzionari di alto livello, soprattutto i politici, da responsabilità penali. Dopo l'esperienza di Berlusconi in Italia, i politici stanno utilizzando qualsiasi espediente, più o meno, in tutto il mondo. Nei paesi nordici questi comportamenti sono semplicemente al di fuori della comprensione, ma ci sono paesi in cui è in corso una lotta costante tra coloro che vogliono punire la corruzione e coloro che vogliono sbarazzarsi delle accuse di corruzione. E il popolo anticorrotti si prepara al rilancio e tenta l'ultima spallata. Se restiamo in piazza non potranno resistere, si legge sulla pagina Facebook del movimento battezzata Corrupsia uccide, la corruzione uccide.